Prima di essere un film, una storia o un cartone animato, Metropolis è un sogno. Un sogno che ardeva nel cuore di un uomo da quasi 40 anni. Quindi oggi, signori, direi che è giunto il momento di parlare di Metropolis, di quel sogno e di quell'uomo. Buona visione! Nel lontanissimo 1927, Fritz Lang, regista austriaco considerato tra i più importanti e talentuosi della storia del cinema mondiale, dirige Metropolis, il suo capolavoro assoluto. Si tratta di un film mutuo in bianco e nero che racconta una storia di fantascienza distopica in un periodo in cui la fantascienza non era affatto mainstream. Simbolo per eccellenza del cinema espressionista tedesco, Metropolis è un'opera monumentale tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello narrativo e simbolico. E seppur negli anni venti non riscuote molto successo, con il passare del tempo viene gradualmente riscoperta e rivalutata, diventando parte integrante della fantascienza moderna e ispirando tonnellate di lavori successivi, tra cui quelli di Hitchcock, Guerre Stellari e addirittura Blade Runner. Il famoso critico statunitense David Bordwell, docente all'Università del Wisconsin-Madison, ha definito la pellicola di Lang un mostro sacro del cinema, un film preciso, spietato e a tratti diagrammatico, un film che pur avendo quasi un secolo riesce ancora a scaraventare lo spettatore dentro la sua architettura abbagliante e maestosa. Ma il Metropolis di cui parleremo non è il film di Lang, bensì un film molto più recente, quello dello studio Medhouse, uscito nel 2001 e tratto dall'omonimo manga del 1949 di Osamu Tezuka. Ora, conoscendo l'influenza e la portata del capolavoro in bianco e nero, è facile supporre che anche Tezuka sia tra coloro i quali abbiano attinto a piene mani dalla storia di Lang. Tuttavia, questo è vero in minima parte. Come affermato dal mangaka, infatti, il film tedesco sì, lo ha ispirato, ma solo come cornice esterna. È stata la semplice locandina della pellicola sulle pagine della rivista Kinema Yumpo che lo ha colpito. La maggior parte del fumetto poi gli è cresciuta tra le mani pescando qua e là nella sua fantasia e nei suoi vecchi bozzetti mai ultimati. In ogni caso, il manga di Tezuka ha un discreto successo ed è qui che entra in scena l'uomo menzionato nell'intro, e cioè Shigeyuki Hayashi, meglio noto come Rintaro. Rintaro inizia a lavorare nel mondo dell'animazione nel 1958, a soli 17 anni, ed è un grande fan dei manga di Tezuka. Così, quando il suo idolo fonda lo studio Mushy Production nel 61, non ci pensa due volte e decide di imbarcarsi al volo in quella pazza avventura insieme a lui, lavorando niente popo di meno che ad Astro Boy, la prima serie animata televisiva nipponica. E dopo le 193 puntate di Atom, amatissime dai ragazzini giapponesi, è il turno di Kimba il leone bianco, che sfrutta la tra virgolette nuova tecnologia del colore. Serie dopo serie, la stima di Rintaro per Tezuka cresce sempre di più, e anche se poi l'artista abbandona la Mushy Production per fondare un altro studio, questa stima non svanirà mai. Però, tra tutti i manga del maestro Tezuka, ce n'è uno in particolare che Rintaro vorrebbe tantissimo adattare sotto forma di anime, ed è proprio Metropolis. Ma per qualche motivo non molto chiaro, il mangaka si rifiuta e continua a negargli il suo permesso. Con il senno di poi, il regista suppone che i rifiuti di Tezuka derivassero dalla sua stessa concezione di quel manga scritto in giovinezza. Probabilmente, crescendo sia di età che di stile, il fumettista aveva riconosciuto delle debolezze in quella storia, e non la reputava più tra le sue migliori, quindi una sua trasposizione sul grande schermo non lo avrebbe soddisfatto appieno. Comunque, al netto delle speculazioni sulla vera motivazione, fatto sta che Rintaro è costretto ad arrendersi, accantonando quel desiderio per dedicarsi agli altri progetti dello studio. Ma in cuor suo, l'idea di fare un grande film su Metropolis non è sparita per nulla. Nel frattempo, gli anni passano, e nel 73, la mushi production fallisce, cosa che però non va a toccare direttamente il nostro Rintaro, visto che aveva già lasciato lo studio. Nel corso del decennio, il regista inizia un sodalizio con Leiji Matsumoto, altro celebre fumettista, e poi, negli anni 80, fa squadra con Yoshiaki Kawajiri e con Katsuhiro Otomo, dirigendo parecchi film di successo che lo rendono uno dei professionisti più rispettati del panorama anime. Purtroppo, però, nel 1989, Osamu Tezuka muore, e con lui muore anche la speranza di Rintaro di potergli mostrare. Un giorno, il film tratto dal suo fumetto, ma il regista non demorde, anzi, insiste nel voler fare a tutti i costi il suo lungometraggio, cosa che finalmente accade. Nel 96, dopo aver recuperato i diritti con l'aiuto dell'amico e collega Masao Maruyama, Rintaro mette insieme un team di artisti e partono così i lavori effettivi. Katsuhiro Otomo, che molti di voi conosceranno per Akira, si occupa della sceneggiatura, cercando di svecchiare la storia di Tezuka, che ridendo e scherzando ha ormai mezzo secolo, e di renderla il più cinematografica possibile. Per le animazioni, Rintaro sceglie una fusione tra l'animazione analogica e la CGI, che da Ghost in the Shell in poi aveva fatto passi da gigante. Tra gli animatori chiave del progetto figurano l'immancabile pilastro Yoshiaki Kawajiri e un giovane Royukio Kyura, che aveva appena ultimato il suo Jinro, Uomini e Lupi. Per quanto concerne il digitale, è Shuichi Rata ad occuparsene, il quale riscontra non poche difficoltà con gli zoom e con le riprese panoramiche della città. Secondo l'artista, i modelli poligonali in 3D dei palazzi sono inconciliabili con i rodovetri tradizionali, cosa che lo costringe a rifare alcune sequenze un'infinità di volte. La musica, invece, è tipicamente jazz e porta la firma di Toshihuki Honda, compositore e sassofonista di Tokyo, mentre il brano finale, che accompagna la scena più tesa e più concitata, è I Can't Stop Loving You, dell'immortale Ray Charles. E alla fine, il 26 maggio del 2001, dopo 5 lunghi anni, Metropolis esce in tutti i cinema giapponesi, traducendosi ahimè in un fiasco totale, perché a fronte di un budget di circa 15 milioni di dollari, ne incassa la metà. Di contro, per la critica, stranamente, è un ottimo successo, addirittura Roger Ebert, uno dei giornalisti più influenti e più accreditati del mondo del cinema, lo definisce uno dei migliori film animati che abbia mai visto. Ehm, beh, io sono della sua stessa opinione. Se la storia di Tezuka era già di per sé molto diversa da quella di Lang, la storia di Rintaro e di Otomo lo è anche rispetto a quella del mangaka. La trama si ambienta nella grande e futuristica cittastato di Metropolis, città governata dal presidente Boon e dal Duca Red, il ricco ma sinistro benefattore proprietario dello Ziggurat, un gigantesco grattacielo posto nel centro dell'area urbana. Un giorno a Metropolis arrivano il giovane Kenichi e suo zio Shunsaku Ban, un investigatore privato che sta cercando il dottor Lawton, un malvagio scienziato pazzo scappato dal Giappone. Indizio dopo indizio, i due scoprono che Lawton ha costruito un robot senziente dalle fattezze umane, Tima, modellata sulla base della figlia dello stesso Duca Red, e così, in bilico tra congiure, tradimenti e rivoluzioni, Kenichi e lo zio dovranno salvare sia la ragazza che la città, prossima a cadere nelle mani del Duca Red e del suo violento partito politico. Fin dalle sue prime battute, il film di Rintaro usa la fantascienza per muoversi abilmente dentro e fuori a svariati sottotesti sociali. Per prima cosa, appare evidente come la città di Metropolis sia uno specchietto per le allodole, un posto bellissimo e scintillante in superficie, ma marcio nelle sue fondamenta. E se il marcio si annida alla base, è inevitabile. Prima o poi crollerà l'intero edificio. La città, infatti, è suddivisa a livelli e man mano che si scende più in profondità, aumentano lo squallore e la povertà. In questo modo si crea un modello di struttura sociale piramidale, dove i pochi che stanno in alto sfruttano i molti che invece stanno in basso. Ma in tutto ciò, ecco che si aggiunge un ulteriore elemento fondamentale. I robot. I robot sono una vera e propria costola della narrazione di Rintaro, e questo perché tra umani e robot vi è una profonda incomprensione. Il film ci mostra fin dal principio come la coesistenza di questi due mondi, il mondo umano e il mondo robotico, sia molto precaria. Quasi tutte le persone disprezzano i robot, perché questi le hanno rimpiazzate. Di conseguenza, le leggi in materia robotica si sono fatte sempre più aspre per cavalcare il malcontento popolare, e i robot sono diventati la valvola di sfogo perfetta per tutti i problemi della città. E questo disprezzo, spesso e volentieri, sfocia in vero e proprio odio ingiustificato. Un odio non tanto diverso da quello razziale. Però agli occhi di Kenichi, che è solamente un ragazzino e per giunta straniero, tale odio si dissolve come neve al sole. Lui non si fa problemi a diventare amico tanto di Fifi quanto di Tima, anzi, li tratta entrambi come se fossero uguali a lui, incurante dell'effettiva diversità. Così, tramite il suo punto di vista, noi spettatori ci accorgiamo di come i robot siano forse più umani di alcuni esseri umani veri. Molto interessante è anche la venatura politica della storia. Oltre alle vicende di Kenichi, dello zio e di Tima, il focus narrativo si incentra anche sulle questioni governative della città. Per quanto il Duca Red si finga disinteressato alla politica, è pressoché impossibile credere alle sue belle parole. E infatti, il presidente Boone teme Red, teme il suo denaro, teme il suo carisma e teme il suo numeroso partito, il partito Marduk. Sebbene il Duca formalmente prenda le distanze dal partito Marduk, un partito pseudo-fascista e squadrista che fomenta il patriottismo e l'odio verso i robot, è evidente che sotto sotto sia lui il capoccia, motivo per cui Boone organizza un complotto per eliminare Red e per ridimensionare di molto la sua influenza. Ma quello che il viscido e meschino presidente non sa è che il Duca si è già intrufolato anche nel consiglio cittadino, e alla fine il suo complotto gli si ritorce contro. E nella visione di insieme, profondamente distopica e totalitaria, questo fatto suona come una magra consolazione. È vero, i potenti corrotti e manipolatori hanno pagato per le loro malefatte, ma sono stati immediatamente sostituiti da qualcuno persino peggiore, e forse le rivoluzioni alla fine della fiera non servono a nulla. Per quella che è la mia opinione, il personaggio del Duca Red è molto ben riuscito, soprattutto se affiancato al figlio adottivo Rock. Il Duca è un leader carismatico che sa parlare bene attirando a sé le masse e che non ha scrupoli a sfruttare degli esaltati squadristi per i suoi scopi. Insomma, è l'incarnazione perfetta del dittatore che sale al potere, acclamato da tutto il popolo. Però nasconde uno scuro segreto, nei livelli più bassi della città sta costruendo un robot molto potente che ricorda sua figlia ed è pronto a lasciare il suo trono a uno di quegli stessi robot che il suo partito tanto detesta. E quando Rock scopre questa cosa, la cieca devozione verso il padre adottivo lo fa cadere nell'abisso della pazzia. Imbevuto di dottrina patriottica e di violenza xenofoba, il ragazzo inizia a delirare e invidioso di Tima, un pezzo di ferraglia inferiore, trascina lei e Kenichi in una spirale autodistruttiva. Infine, l'ultima grande tematica del film è l'identità. Che cos'è Tima? È un androide oppure è una persona vera? Io sono un essere umano! Sono un essere umano proprio come Kenichi! Il concetto dell'io naturale e dell'io robotico è uno dei più gettonati nell'ambito della fantascienza e nonostante qui non venga approfondito come per esempio in Ghost in the Shell, è comunque un fattore di rilievo nel complesso della pellicola. Nella storia si vede chiaramente che Tima viene creata in laboratorio, eppure la regia di Rintaro sembra dirci che lei è superiore sia ai robot, sia agli uomini. Non a caso, il Duca Red la definisce come l'essere destinato a comandare il potere dello Ziggurat, l'essere destinato a sottomettere il sole, simbolo dell'impero del Giappone. In tutte le inquadrature, lei è avvolta da una luce chiara e cristallina, e anche nei livelli più bassi e più tetri della città, sembra quasi risplendere di purezza, una purezza che si irradia nei suoi occhi, nel suo viso e nei suoi capelli. E all'epilogo, dopo la crisi di identità della ragazza androide, quella purezza esploderà sotto forma di una potenza incontrollabile, una potenza che distruggerà tutta Metropolis fin dalle sue radici. E in quel trionfo di devastazione, di fuoco e di esplosioni, si sentono soltanto le note di I Can't Stop Loving You, creandosi così un contrasto bellissimo e suggestivo che riempie lo schermo con centinaia di sfumature colorate. In conclusione, io credo che sia valsa la pena aspettare tutti quegli anni per vedere Metropolis. Quello che Rintaro ha confezionato è un film visivamente splendido, un film che riesce ad adattarsi a un nuovo tempo storico, pur avendo origini molto lontane nel tempo, un film squisitamente giapponese, ma allo stesso tempo anche americano. E questo perché Rintaro è sempre stato un grande appassionato della cultura pop occidentale. Gli echi della guerra fredda, la crisi economica della bolla speculativa, il nazionalismo che rispunta fuori da sotto il tappeto, l'odio per i diversi, tutti questi aspetti si fondono alla perfezione all'interno di una storia di fantascienza classica, una storia che ha quel retrogusto anni 50 e 60 nell'estetica, ma non nella sostanza, che invece è più attuale che mai. E poi il conflitto che prende vita tra i design molto caricaturali e simpatici tipici di Tezuka e la violenza spropositata di alcune sequenze è a dir poco impattante. Vedere Rock che fa a pezzi il povero Fifi è quasi straziante, pur non essendoci per assurdo nemmeno una goccia di sangue. Insomma, tra alti e bassi, Metropolis racconta una storia di diversità e di pregiudizi, una storia di potere e di ideali distorti che hanno portato alla rovina un'intera città. Ma dopo la scena della distruzione totale, una scena simile a quella di Akira, il sole torna a splendere ancora e umani e robot lavorano gli uni con gli altri per ricostruire un mondo nuovo, un mondo fatto di unione e di speranza, la speranza di Kenichi di ritrovare Tima e la speranza della città di non commettere gli stessi errori del passato. Purtroppo Metropolis segna l'addio di Rintaro dall'animazione tradizionale sul grande schermo. I suoi lavori successivi saranno qualche cortometraggio e Iona Iona Penguin, un film interamente in digitale, cosa che di fatto rende Metropolis il suo ultimo grande film seminale, Vecchia Scuola. E quell'ultimo film non poteva che essere il sogno che aveva coltivato da così tanto tempo, un sogno che secondo me sarebbe piaciuto anche a Osamu Tezuka. Bene ragazzi, direi che io ho parlato più che abbastanza, quindi adesso tocca a voi. Vi è piaciuto Metropolis oppure no? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio se mi avete ascoltato fino a qua, statemi bene mi raccomando e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video!